Buongiorno, benvenuti a bordo di Lusin, 60 metri full custom di Hesse Njots, cantiere olandese. Oggi vi facciamo visitare questa imbarcazione, l'ultima che abbiamo presentato qui al salone, consegnata quest'anno nel mese di febbraio. Gli esterni sono di Frank Laufmann di Omega Architects e gli interni sono di Sinnoh Yacht Design & Architecture. Benvenuti a bordo! Gli interni di Lusin sono stati disegnati dallo studio di architettura olandese Sinnoh Yacht Architecture & Design con cui collaboriamo spesso. L'ispirazione del design di questi interni è l'art decor revisitato in chiave contemporanea. Ci sono tutti gli elementi che sono presenti in questo spazio, sono custom e sono stati realizzati da vari artigiani tra cui Metrica, gli artigiani che lavorano per Hesse Njots in Tyrios che è la nostra falegnameria e anche List che è un'altra ditta che realizza interni e sono basati in Austria. Lusin in armeno significa luna e qui a bordo abbiamo la possibilità di essere super vicini alla luna. grazie a questo pezzo di meteorite lunare circondato da Palladio che è il metallo più prezioso sulla Terra. Questa è la cabina armatore a tutto baglio con il bagno per lui e per lei, è una terrazza privata con la jacuzzi e un tavolo per la colazione e un'area lounge. Questa cabina è servita da una pantry privata e da una lavanderia privata così che l'armatore abbia privacy completa. Lasciamo l'interno di Lusin in cui ci sono 6 cabine per 12 passeggeri per passare in questo magnifico spazio a prua e un salotto all'aperto per godersi la vista a 180 gradi. Grazie a tutti.